A proposito di informazione, che è quella che mi pare che giustamente voi come centro alcologico e come ASL3 continuate a battere, bisogna informare i cittadini, bisogna informare i giovani e il Consiglio regionale proprio in questi giorni invece ha bloccato un'iniziativa dove si voleva mettere sulle etichette degli alcolici che fa purtroppo male alla salute. Su questo punto, Dottor Testino? Innanzitutto abbiamo mandato una lettera aperta ai consiglieri regionali per dirgli, prima di mettersi una mano sulla coscienza, perché qui parliamo di salute pubblica, la seconda cosa è di informarsi da esperti del settore, perché purtroppo in questo periodo storico tutti dicono la loro opinione personale, ma l'opinione personale per quanto autorevole non significa l'evidenza scientifica e dopodiché discuterne, parlarne, perché capisco benissimo, capiamo benissimo che la vendita di bevande alcoliche rappresenta per il nostro paese, ma per tutte le regioni italiane, anche per la Liguria, un ritorno economico molto importante in termini di attività, di posti di lavoro, eccetera, eccetera, ma è altrettanto vero che purtroppo abbiamo danni enormi per il consumo di bevande alcoliche. E allora, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto tante volte e lo ripetiamo, noi non vogliamo proibire niente, proibire né di produrre né di vendere né di comprare né di bere bevande alcoliche, noi chiediamo che la popolazione venga informata sui danni che il consumo di alcol provoca per renderla consapevole e dopodiché ognuno è libero per fortuna di fare ciò che vuole. Mi pare proprio che tra l'altro la seconda causa di morte sia dovuta al consumo di alcol che porta ai tumori, è questo il punto? È così, è così, è così, il consumo di alcol è la seconda causa di morte oncologica e questo fa comprendere che il problema non è la dipendenza, perché se no avremo un popolo di alcolisti, ciò significa che una quota parte delle persone che consumano, che pensano di consumare moderatamente, purtroppo può sviluppare dei tumori. E poi è sempre difficile definire il consumo moderato, perché per me può essere una unità alcolica al giorno, per un altro due, per un altro mezza, noi non possiamo sapere quale esattamente può essere il dosaggio per la singola persona. E quindi sapendo che l'etanolo, che è nel vino, nella birra e nei superalcolici, è un tossico, un cancerogeno e può anche dare dipendenza in una percentuale di casi, è bene dire questo, punto. Poi ognuno sceglierà di assumersi il suo rischio personale. Grazie dottor Testino, grazie per il lavoro che fa per prevenzione e informazione. Bene.